le sue mani scaturivano scintille luminosità, credetemi, ero impressionato, sembrava che avesse dei carboni ardenti, come quando fanno le colate di acciario. Poi a un certo punto apri le mani e mi mise nelle mie una sostanza, me la mise, mi disse di chiudere le mani e cercare di capire cosa fosse. Io proprio cercavo di capire, mi sembra una sorta di lama di coltellino, ma però non sono sicuro, perché non è completo, mi rispose, ridammi il tutto. Rimisi questa sostanza fosforescente nelle sue mani, continuò a lavorarla, poi mi disse apri adesso le tue mani e mi mise un oggetto, mi disse non aprirle più fino a che è finita la seduta e poi mi disse, vedi Giancarlo, tu devi continuare a trasmettere, io non l'avevo detto a nessuno che volevo smettere, ma neanche in casa, tu devi continuare a trasmettere Giancarlo, sappi che se un giorno davvero sei in difficoltà, noi interverremo per aiutarti. Termino la seduta, apri le mani e trovai questa.